Ciao a tutti e benvenuti. Oggi nell'intervista concessa al Fatto Quotidiano da Andrea Scanzi e da Stefano Pioli è emerso un particolare che molti di voi avranno intuito, capito, condiviso, collocato e contestualizzato durante il percorso. E cioè il fatto che durante il lockdown del 2020 sia nata una particolarissima chimica, Stefano Pioli la chiama addirittura magia, fra tutto il gruppo, dentro tutto il gruppo squadra, dentro l'allenatore, verso i giocatori, viceversa, lo staff, eccetera. E lo ricordo molto bene quel periodo. Era un periodo in cui Stefano Pioli veniva quasi, non dico commiserato, ma quasi dato per superato. Che cos'è il lockdown del 2020? È quella cosa che turba il mondo, che scuote il mondo, che deprime il mondo e che inizia nel piccolo microcosmo calcistico dopo la sconfitta casalinga con il Genoa. Quella sconfitta nella quale, ricorderete, purtroppo Paolo Maldini non poteva essere presente allo stadio per via del Covid. E Ivan Gazzidis veniva ripreso da solo, veniva fotografato da solo, nello stadio di San Siro a porte chiuse. Era l'inizio, eravamo solo all'inizio del grande shock delle porte chiuse. E la foto di Gazzidis veniva inquadrata come la foto sconsolata del Milan ormai alla deriva, del Milan ormai allo sfacelo, del Milan ormai in mezzo al guado. Nel Milan sconfitto contro il Genoa, il Milan allenato da Stefano Pioli. E iniziò il periodo di lockdown in cui, proprio fra Gazzidi e Sepioli, nacque un feeling inaspettato. È un racconto che merita attenzione e approfondimento. Lasciatemi solo ricordare OneFootball con la sua app, con i suoi contenuti, con la sua connettività. OneFootball, grande portale, grande brand. OneFootball gratuito nella sua espressione a livello app. La app è gratuita, la potete scaricare, l'app di OneFootball, tranquillamente e facilmente e gratuitamente dalla descrizione di questo video, così come gratuiti sono tutti i suoi contenuti. La vicenda del lockdown richiamata nell'estate del 2021, alla vigilia della nuova amichevole con il Modena da parte di Stefano Pioli, richiama quindi un concetto molto caro al mondo del calcio. E cioè, dentro le società di calcio, dentro il mondo del calcio, si è particolarmente apprezzati se si reagisce bene in particolari condizioni di stress. Anzi, le aziende, e anche quelle calcisti che sono delle aziende, anche se è un brutto termine per gli innamorati del calcio, e cioè tutti voi con cui sto dialogando, apprezzano particolarmente chi tira fuori il meglio di se stesso e non dà tutto per perso a livello, ad esempio, di conduzione di un gruppo, quando tutto attorno invece le cose sembrano precipitare. Ed è chiaro che se tu inizi un lockdown dopo una sconfitta con il Genoa, senza avere la possibilità immediata di riscatto e di rivincita, con tutto attorno che si parla di Rangnick, di ultima spiaggia per mezzo Milan, quindi grande ricambio, e quindi mentre tutto attorno si dà praticamente la stagione 2019-2020 per finita, tu invece in quel momento, in quel momento ti fidi delle parole della società, il destino è nelle tue mani, fai bene e poi faremo le opportune valutazioni insieme, e Stefano Pioli non ha considerato le parole del Milan come parole di circostanza, le ha considerate parole vere. lui è un uomo molto professionale, molto dedito al lavoro, alla fatica, ai doveri, al rispetto, non soltanto dei contratti, ma soprattutto della sostanza delle persone e durante il lockdown ha creato quel clima che ha portato poi il Milan a metà maggio 2020 a radunarsi, a fare una preparazione eccellente e a volare da metà giugno fino ai primi di agosto, con quei trenta punti fatti in dodici partite che sono stati, diciamo, nello sci si chiama tempo intermedio, che sono stati il tempo intermedio del ritorno ai Champions League. E Stefano Pioli è ancora quello, Stefano Pioli ha rinnovato il contratto nel luglio 2021 ed è sempre quello, ed è sempre l'uomo di cui oggi Fode Ballot-Turè ha parlato nella conferenza stampa di presentazione, mi ha già detto cosa si aspetta da me, per Stefano Pioli è molto importante il primo contatto con un nuovo arrivato. Nel primo contatto con un nuovo arrivato Stefano Pioli vuole certamente puntare a inserire il nuovo elemento nel gruppo e nell'identità tattica della squadra, ma vuole soprattutto conoscerlo e per conoscere le persone Stefano Pioli all'inizio, alle primissime battute non parla a lui, ma vuole sentire da chi arriva nel club una descrizione di se stesso dal punto di vista umano, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, dal punto di vista calcistico. E quindi sono sempre momenti importanti e se Ballot-Turè parla in maniera positiva del primo contatto con Pioli vuol dire che il nostro allenatore ha già iniziato a lavorarci. Chiaro che siamo lontani dalle grandi sfide, dobbiamo ancora assistere al ritorno già in questa settimana di molti protagonisti dell'ultimo europeo, quindi la rosa, il gruppo, la squadra deve ancora assumere una conformazione, un contorno definitivo, però siamo al 22 luglio, siamo praticamente a 14 giorni dal raduno avvenuto l'8 luglio, fare i conti praticamente in diretta non è mai semplicissimo, anche se sembrano semplici, e quindi Stefano Pioli ha già iniziato a incidere, ha già iniziato a lavorare, perché Stefano Pioli ama Milanello, ama il Milan e quindi tutto va di conseguenza. Ricordo non soltanto il lockdown di Stefano Pioli, ma anche la sua quarantena tra ottobre e novembre, la quarantena legata al Covid. Ricordo che Stefano Pioli tornò a riassaporare la vita e la libertà rivedendo Milanello all'ultima curva dal comune di Carnago, perché poi quando vuoi molto bene a quello che fai, al luogo in cui lo fai, poi tutto viene di conseguenza, tutto viene da sé, tutto va di pari passo. Stefano Pioli che è un tutt'uno con Ivan Gazzidis, con Paolo Maldini, con Frederic Massara, non c'è un Milan di Gazzidis, un Milan di Pioli, un Milan di Maldini, un Milan di Massara, c'è il Milan. Chi non lo ha capito bene questo vuol dire che non ha capito bene tutta la vicenda e quindi va bene così. Però anche nell'intervista di oggi ad Andrea Scanzi, Stefano Pioli ricorre a frasi che non ti aspetti perché sembrano aforismi massime, un po' retoriche da parte di Stefano Pioli. Usava le frasi celebre all'inizio della conferenza stampa, ad esempio Sinisa Miajlovic, la conferenza stampa di presentazione delle partite, le frasi celebre dei grandi personaggi, ma Stefano Pioli è molto diverso da Sinisa Miajlovic. E quando Stefano Pioli dice gli ostacoli è giusto che siano alti per chi ha ambizioni molto alte, ci crede, ci crede, sono cose che sa di poter dire alla squadra. Ecco, questa è la bellezza del rapporto fra Stefano Pioli e sui giocatori. Sapete, i calciatori professionisti di un grande club sono uomini risolti, uomini molto ricchi, uomini molto importanti, potrebbero anche delle frasi fatte così, sulle frasi fatte potrebbero anche fare un sorrisino, magari anche non prenderle sul serio, invece se a loro le dice Stefano Pioli sanno e percepiscono che c'è una serietà dietro, che c'è un messaggio dietro. E poi tutto va di conseguenza. Ed è proprio perché l'allenatore lo merita, proprio perché il Milan sa di mettere giocatori e materiale umano in buone mani, che il Milan sta facendo un mercato molto importante, che il Milan si è messo nella condizione al 22 di luglio di aver fatto il grosso del proprio mercato, sapendo che naturalmente le cose più importanti sono ancora da fare, ma sono cose importanti ma poche e quindi c'è tutto il tempo e la lucidità per farle. E Stefano Pioli merita che vengano fatte al meglio, come tutto il Milan di cui Stefano Pioli è parte integrante, ben sa. Ciao a tutti e a domani.